Ehi Alex, perché una matricola mi ha appena fatto i complimenti per la stoccolina della mia casa vuota? Dormi ancora? Ragazze, piace più della stanzetta dell'ospedale? Ok, è uno schifo, ora dovrò far disinfettare la casa, ridammi la chiave. Non c'è di più, che ti importa? La chiave, per favore. Ciao ragazzi, non è incredibile, siamo nella stanza degli strutturati. April, che ci fai qui? Oh, Hunt è venuto a prendermi nella fattoria a Moline. Davo da mangiare ai maiali e il dottor Hunt è venuto a offrirmi di nuovo il mio posto. Non ve l'ho detto? Qualcun altro ha visto il dottor Hunt nella porcelaia? Quando ti è apparso? Aveva l'aureola? April? Hunt l'ha riassunta. Crediamo noi, magari è stato Gesù. Pensavo che fossi andato a Tulane. Sì, no, ho cambiato idea. Ehi, siete dei medici, non vi cambiate davanti a tutti come animali o matricole, perché nessuno vuole vedere tutta quella roba. A quanto pare che Apner sì. Cosa? No, io non stavo neanche... No. Devo andare. Anch'io bentornata. Sono felice che tu sia qui. Sono qui? Anch'io sono... Sono felice... Anch'io di essere qui. Ok. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.